Ciao ragazzi, ciao ragazzi, altro video outfit, è il pomeriggio, il primo pomeriggio saranno le 5 e mezza, forse 6 sto per scendere, devo arrivare sul corso della mia città, devo fare un po' in servizio e incontrare un'amica che lavora in centro quindi, scusate mi sono persa, outfit molto, un look molto tranquillo, come potete vedere dal make up non ho nulla tranne mascara, quasi 3 passate di mascara un gloss luce da labbra trasparentino, come bijou, se si possono chiamare così, oltre al cuore a metà e alla fedina ho questi tappabuchi, si dovrebbero chiamare, in oro giallo anche questi regalati forse quando ero neonata, ma a me piacciono un sacco, discreti, carini, eleganti, mi piacciono tanto e sulla mano ho un piccolo anellino con 3 sfere diverse di colore, un verde, un arancione che riprende anche un po' la collana etnica e una pietruzza simil svaroschino, quindi come dicevo al collo ho questa collana molto estiva e molto etnica che riprende alcuni colori che ho indosso giù ho deciso di indossare questa canotta bianca molto semplice l'unica particolarità è che qua sulla pancia ha questo gioco di colori tra glitter, cioè svaroschini, paiuzze, varie a me piace molto perché ha questo taglio un po' all'americana però che non finisce dietro, qua c'è l'accetto della collana a X che non mi piace molto, ma solo avanti sotto ho deciso di indossare questi mantaloni come dire descriverli è un po' difficile allora non sono rossi perché non lo sono sono un bronzo tendente rosso ma anche ancora molto arancione è difficile però mi piacciono molto, sono stretti e hanno la particolarità, ora mi avvicino di avere questi due bottoncioni dorati e il fascione qua, dove parte il pantalone non so come si chiama, la cinta forse forse sì come scarto ho deciso di indossare queste non mi ricordo mai come si chiamano perché sono neutre, questo beige è molto neutro tranquillo che non cozza troppissimo però poi si abbina, poi faccio vedere dopo con la borsa la borsa che ho deciso di indossare è questa grande beige dell'OPS che vi ho fatto vedere nell'ultimo video qui c'è i prodotti eccetera che ha anche questo bel fiore oddio preso per la raccolta fondi contro i tumori e i colori comunque del fiore l'arancione più che altro si abbina un pochettino all'outfit dunque questo è il mio look per oggi pomeriggio io spero che vi sia piaciuto vi mando un bacio grosso 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 e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze ciao ragazzi in gamba ciao